La stazione di servizio Fiat Tagliero fu realizzata nel 1938 su progetto dell'ingegner Giuseppe Pettazzi Il disegno richiama il mito futurista della velocità e della macchina tipicamente in voga in quegli anni di progresso tecnologico e nuove scoperte Questo progetto, sia per la sua struttura innovativa che per la leggenda ancora adesso tramandata di generazione in generazione dagli eritrei della Smara, ha lasciato una sua impronta particolare Le ardite mensole che reggono i 16 metri delle ali a sbalzo ancora oggi a distanza di 80 anni dimostrano la grandezza del genio italiano e dai 17 e 74 cambiamo il quadro bisogna considerare che la parte soffeta parte da questa colonna Questa architettura in stile futurista rappresenta l'edificio più straordinario e iconico della città di Asma Sono le ali dell'UNESCO Asmara è diventata così patrimonio dell'umanità